Una nuova casa per gli 11.000 donatori di sangue di Rovigo, l'Avis provinciale di Rovigo e l'Avis comunale hanno inaugurato il punto chiamata in un'area di smessa dell'ospedale Santa Maria Misericordia di Rovigo. Un lungo lavoro durato anni che finalmente è diventato realtà. Alla giornata dell'inaugurazione, ieri pomeriggio 16 ottobre, erano presenti tutte le Avis comunali del territorio, oltre alla presidente provinciale Barbara Garbellini e al presidente comunale Francesco Chiavilli. E' un momento emozionante, ha detto Chiavilli, il risultato di un percorso in cui abbiamo messo la pancia e dobbiamo ringraziare ogni singola persona che ha creduto in questo progetto, a partire dalla Fondazione Cariparo, così come gli ex vertici dell'Ulse 5 Polesane, Antonio Compostella ed Edgardo Contato. Finalmente l'Avis ha aperto la sua casa. Successivamente è avvenuta la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del rappresentante delle diocesi di Adre Rovigo, Don Camillo Magarotto. L'evento si è poi spostato nella cittadella sanitaria dove ci sono stati vari interventi da parte delle istituzioni presenti, a partire dal vicepresidente della Fondazione Cariparo, Giuseppe Toffoli, che ha sottolineato il grande passo in avanti compiuto dall'associazione con questo progetto. A rappresentare l'Ulse 5 Polesana, il primario del Dipartimento Trasfusionale Andrea Frigato. L'apertura di questo nuovo punto chiamata provinciale, ha detto, è atto ad evitare uno scollamento tra i bisogni e le possibilità dei donatori. In sala erano presenti l'assessore regionale Cristiano Corazzari e la consigliere regionale Simona Bisaglia e sono stati letti i messaggi dell'assessore Emanuela Lanzarin e del governatore Luca Zaia. L'Aviso svolge da sempre una missione preziosa sia dal punto di vista sanitario che sociale, hanno detto. Questa associazione è una vera e propria eccellenza non solo in questo territorio ma per l'intera regione.